ciao a tutti ragazzi noi siamo l'ignorante dopo il successo risvoltino ci troviamo a Ivrea per girare il nuovo videoclip musicale è aperto a tutti tutti possono partecipare quindi cosa aspettate venite con noi e a partecipare a partecipare al concorso a premi e cosa devo dire aiutatemi 7 dicembre piazza del sirio ore 14 30 di fronte alla posta centrale ad Ivrea l'ignorante ti aspetta la comparsa puoi essere tu minchia sto dito insomma vi aspettiamo il 7 dicembre dai le pubblichiamo così amici di Ivrea ci vediamo il 7 dicembre alle 14 e 30 mi io gioco in casa amici d'italia di tutto il ci troviamo a Ivrea alle 14 e 30 vai di dove? in piazza del sirio di fronte alla posta centrale mi raccomando 7 dicembre andate a prelevare e via ciao vi saluto aiuto 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 saluti saluti ciao